se siamo fortunati vabbè tranquilli che gioia se siamo fortunati adesso arriva il bus adesso arriva il bus adesso arriva il bus quello se ne va bus siamo stati a lana e la ele ci ha mollate qua siamo stati a lana e la ele ci ha mollate qua abbiamo fatto benzina e la ele ci deve 2 euro e 20 dove cazzo è il mio bus bus ma voglio una macchina una bici no una macchina decisamente meglio una macchina oh là c'è una ruota là c'è una ruota c'è una ruota guarda la ruota non ci posso credere dov'è il mio bus sposta quel bus ecco vedi i bus sono sempre in ritardo non ci si può mai fidare di loro santo dio dov'è il mio bus sembra una pazza e una signora mi sta guardando da un balcone adesso conosce l'ans spengo il cellulare lo tiro giù e mi metto ad aspettare il bus senza parlare da sola mmm si è una buona idea tanto so che appena spegnerò il cellulare il bus si sbucherà fuori dall'angolo io dirò è una buona idea